Cosa fare se nel corso delle tue ricerche non trovi nella tua biblioteca un articolo o un libro che potrebbero servirti per il tuo lavoro e che vorresti consultare? Se la risorsa che cerchi è fisica, innanzitutto prova a controllare se il documento è in possesso di un'altra biblioteca della tua stessa università. Quasi sicuramente esistono delle modalità agevolate per ottenerlo, anche se non è nella sede che frequenti normalmente. Se invece il documento non si trova in nessuna delle biblioteche del tuo Ateneo, non preoccuparti, ci sono dei servizi che fanno a caso tuo. Se ti serve un articolo di una rivista, puoi soffrire del servizio di fornitura documenti, spesso indicato come Document Delivery o DD. Il bibliotecario cercherà per te l'articolo nelle collezioni di altre biblioteche, eventualmente anche all'estero, e te ne farà arrivare una copia in formato cartaceo. Se invece hai bisogno di un libro, puoi utilizzare il servizio di prestito interbibliotecario, o IL, dall'espressione inglese Inter Library Loan. Anche in questo caso, sarà il bibliotecario che gestirà il processo per consigliarti il volume in prestito per un periodo di tempo stabilito dalla biblioteca prestante. Per conoscere tutti i dettagli dei servizi di Document Delivery e Prestito Interbibliotecario, modalità di inoltre, numero massimo di richieste, eventuali costi autocarico, eccetera, ti consigliamo di consultare le pagine dedicate sul sito della tua biblioteca.